Questa qui, questa qui in molti, in molti, lì in campo, in molti, sanno neanche cosa sia Sanno neanche il valore che possa avere per un tifoso del Parma Una maglia crociata, stampata qui sul proprio petto Sanno neanche cosa sia E' difficile ragazzi, è difficile poter commentare Perché siamo arrivati veramente, oltre lo sfogo, siamo andati allo schifo Ora non siamo più neanche allo schifo, siamo alla disperazione, sconforto E' incredibile come, sto guardando la classifica adesso, no? Sto guardando la classifica adesso e non siamo ancora in zona retrocessione Com'è possibile? Cioè, com'è possibile che non siamo ancora in zona retrocessione, siamo un punto sopra? Com'è cavolo possibile? Cioè L'avete vista durante la diretta, no? Roma Game Pass Era una cosa più complicato commentare sta partita Che è stato disarmante Abbiamo fatto praticamente tutto il secondo tempo a parlare di tutt'altro Rispetto alla partita Della partita non viene neanche più parlato Perché non Non aveva minimamente senso poter parlare della partita Perché l'Atalanta ha passeggiato in campo Parma Non esisteva Non esisteva gioco Non esisteva mordente Busi, ragazzi Busi Io lo ripeto Busi va aspettato Ok Ma in questo momento è un calciatore da terza categoria Almeno due dei tre gol sono colpa sua Così come il gol subito Il primo gol subito con Muriel Con Ilicic che fa una roba bellissima Bruno Alves dove sei? Bruno Cioè Bruno Alves ragazzi Gli ha detto grazie Messo in panchina Messe Mettere in campo Messo in campo osorio titolare insieme all'autora Valenti Piuttosto L'autora Valenti oggi ha giocato anche bene Il problema che ti fa Ti rende più scioccante la cosa È che Non vedi neanche margini di miglioramento Non vedi neanche una possibilità Una possibilità che la cosa possa Risolversi in maniera diversa rispetto a una retrocessione Non La squadra è completamente in bambola Non è con l'allenatore E adesso stavo leggendo Che Liverani Pare Pare In questo momento Ora è 17.55 Pare abbia in conferenza stampa Detto che se ne va Ha detto di non aver ancora parlato con la società Me ne vado Con Me ne vado Con tanto dispiacere Perché conosco il mio ruolo Quindi probabilmente verrà esonerato Probabilmente Se verrà esonerato Probabilmente faremo una live Di contro calcio Oggi o domani Vediamo Non so veramente cosa dire ragazzi C'è lo sconforto in questo momento Nei miei occhi C'è una tristezza C'è C'è l'incredulità Di avere ancora una squadra Incredibilmente Assurdamente A un punto Sopra la retrocessione Ancora Zero gol fatti Anzi Un gol fatto Nelle ultime quattro partite 12 gol subiti Ancora un'altra partita Con zero gol fatti La prossima è contro la Lazio Quindi Un'altra debacle Liverani c'ha ragione Quando dice che Non è soltanto colpa sua Lo abbiamo detto Secondo me Al 45% Colpa di Liverani Ma al 55% Colpa di Calle Perché tu non puoi spendere Quella cifra sul mercato E avere dei giocatori Così tanto inadatti Al gioco del mister Che hai scelto L'ho detto lui stesso Cioè non ho giocatori In grado di Di fare il gioco Che so fare Cioè C'ha ragione Paradossalmente C'ha ragione lui C'ha ragione lui ragazzi Io Se dovesse essere Misonerato adesso Ripeto Non ci sono altri nomi Se non Roberto D'Aversa Ragazzi per me Cioè mi vedrete fare Un video sfogo gigantesco Se non dovesse Essere preso D'Aversa ragazzi Poi vi dirò anche il perché Ma penso che se Seguiate le live Anche oggi 470 spettatori Fissi Fissi Siete meravigliosi Meravigliosi E 298 Su Twitch Meravigliosi Veramente Complimenti all'Atalanta Fatemi sapere un commento Qui sotto Cosa ne pensate Ormai Lascio parlare A voi ragazzi Io sono Sconfortato Dai Bob Facci tornassuno Di nuovo Ti prego Almeno adesso inizia Il calcio mercato Ci si diverte un po' Buona epifania Ragazzi Perché l'epifania Di Liberani Pare essere Arrivata oggi Per l'epifania